ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi allora oggi un video che avevo già anticipato di massaggio alla schiena e ho con me una crema corpo e un olio cominciamo dalla crema ne prelevo una quantità abbondante e lo spalmo così e poi No, no, no. parola Scendo, vado un attimo dall'altra parte Cerco di fare la giusta pressione, cerco di non fare troppa pressione E cerco di lavorare soprattutto in queste zone qui Che sono quelli in cui si accumula un po' più stress In cui appoggiamo anche tutto a borsa, zaino Un po' esercizi c'è il collo e si arricchiaviscano le spalle Quindi cerco veramente di lavorare in questa zona Cerco di portare giù Cerco di portare giù Grazie 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 Spero che riuscite un po' a sentire La zona della pelle Io adoro il massaggio sul collo Proprio Qui Di solito a me si accumula la tensione qui Un po' qui A lei invece si accumula più Qui sopra Tipo qui no? Secondo Secondo me è molto Dipende molto dalla posizione che si assume durante Tutta la giornata Dipende come si tengono borsi, zaini Soprattutto la postura Io tendo a stare storta Lei tende a stare un po' coppa Quindi abbiamo E' vero Quindi abbiamo due E' male in due posizioni diverse Potrei dire una cavolata Ora vado a usare questo olio Un olio all'arnica con Pinu Mugo E questo è fatto proprio Per aiutare con A sciogliere i muscoli Infatti l'arnica La frittura all'arnica Coloni essenziali di Pinu Mugo È un antico rimedio per la cura del corpo Da utilizzare per il massaggio muscolare Ottenere una mediata e durata Sensazione di benessere Ottimo soprattutto per il massaggio dopo l'attività sportiva Non è il nostro caso Apri la che ho le mani honte Questo devo dire la verità È un olio Un po' secco che tende Ad assorbirsi quasi subito Quindi Vado ad abbondare un pochettino E questo è un olio E questo è un olio di fresco pazzesco Quindi E questo è questo È un olio di fresco ho sentito il caldo? non si sente? no? vabbè ok adesso provo a massaggiare un pochino anche la parte centrale inscriviti al bambino ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora pensate che ci sia qualcuno a farvi questo massaggio dopo una giornata di lavoro, magari davanti al computer. O se avete un lavoro in cui si fa fatica, si fa un lavoro fisico ancora pezzo. E' sempre bello tornare, c'è qualcuno che fa massaggio la schiena. Dopo il passo successivo direttamente crollare a letto, penso, se neanche cenare. Grazie. Grazie. Io ho relativamente la sfortuna di essere quella che fai massaggio, non lo dice? Adesso finiamo sempre con questo. Finisco il massaggio con un po' di pressione fatta con questo ciccino qui. In realtà a voi magari sembrerà anche un po' dei segni che la fai massaggio. Mi piace che io stia pregando tanta pressione. In realtà la pressione è veramente poca. E' sicuro. Io andiamo in pieno un po' di colorlo. Proviamolo. ... ... ... Questo sarebbe fatto per le mani e per i piedi, infatti l'ho provato a mettere sotto la pianta Per i piedi è spettacolare, è veramente gustoso Ma sono bellissimi Allora direi che anche qui È ora di abbassare le luci E mandarvi la buonanotte con ancora un po' di massaggio con il rullo E un po' anche di vicio al tricolo Un po' sul collo Buonanotte 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 Sogni d'oro Che li spera Che li spera